Lo vedete che non gli interessa nulla a questi personaggi, non gli interessano le sofferenze di noi romani, la sporcizia della capitale, il fatto che tra un mese ci sarà il giubileo, la povertà, l'emergenza abitativa, nulla. A Renzi gli interessa di salvare un po' la faccia al Partito Democratico e a paura, a paura delle elezioni perché il Movimento 5 Stelle è forte e Roma è con noi. Al sindaco Merino che gli interessa comunque di rimediare una poltrona in qualche modo, giochi, pantomime, questi personaggi tengono sotto ostaggio la città, la nostra città è sotto ostaggio appunto di faide interne al Partito Democratico. Vogliono sfiduciare il sindaco? Benissimo, ecco la mozione, il Movimento 5 Stelle l'ha scritta, l'ha depositata, si può votare domani mattina e permetteranno a tutti noi romani, ci permetteranno di andare al voto e speriamo di votarli via. Vogliono loro presentare una mozione sfiducia, la presentassero e gliela firmiamo e gliela votiamo senza problemi. La verità è che cercano tempo, provano a smarcarsi, cercano di spartirsi il potere, ma ci possiamo ancora fidare di questa gente? Io vi prego, spingiamo tutti quanti affinché si possa andare al voto a Roma il prima possibile e votiamoli via.